Da diversi giorni se ne parlava come di una possibilità. L'ufficialità è arrivata poi nelle ultime ore. Rezzo Aglio è tra i comuni che rientrano nella zona di restrizione di tipo 1 della peste suina. Nel territorio comunale per ora non sono stati trovati cinghiali infetti ma il provvedimento è stato preso per la vicinanza con Torriglia dove sono stati già trovati due casi. La zona 1 è quella con le regole di contenimento più blande. Riguardano solamente i cacciatori che devono disinfettare calzature, mani, vestiario e le zampe dei cani a rientro della battuta. Devono poi adeguare il locale dove sono macellate le prede per facilitare la disinfezione del pavimento e dotarsi di un freezer per conservare la carne in attesa dei risultati delle analisi che sono obbligatorie. Il sindaco di Rezzo Aglio Marcello Roncoli che raggiungiamo al telefono si dice molto preoccupato e dice che quasi sicuramente con queste restrizioni i cacciatori non verranno più a Rezzo Aglio per lungo tempo. A preoccupare di più il primo cittadino è naturalmente la possibilità che venga trovato un caso di peste suina sul territorio comunale. Eventualità tutt'altro che remota vista l'avvicinanza con Torriglia. Questo porterebbe restrizioni anche per le attività nei boschi come le semplici escursioni o i giri in bici. Non sarebbero vietate ma ci sarebbero delle norme da seguire come quella di cambiare le scarpe una volta usciti dal bosco. Nulla di irreparabile ma non un bel biglietto da visita per la stagione estiva. Per ora Rezzo Aglio è l'unico comune della Val Davito interessato da restrizioni. L'altro comune Ligure della Valle Santo Stefano non ha ricevuto comunicazioni.